Nonostante si stia aggrappando al vetro, viscio va, ci sta riscendo Fabio Caruso sicuramente è anche noi bravissimo Ma non basta perché Flavio sta facendo una difesa intravottabile Attenzione, vediamo Fabio Caruso in scia, vediamo la differenza di velocità tra i due Vediamo la differenza di velocità tra i due, è poco più veloce Vediamo se prova subito la staccatola interna, Fabio Caruso non ce la fa Flavio Giunchi arriva un po' lungo, un po' lungo potrebbe riuscire a fare forse un'uscita un po' più Dritta, attenzione, attenzione sul finale, Fabio Caruso lo supera sul finale Che finale, sì, Terzo ce l'ha fatto con un attacco alla fine In uscita, non in entrata, si è piazzato bene Flavio Giunchi per cercare di difendersi da Caruso È arrivato un po' più lungo e si è fatto superare di niente, di niente ragazzi Grazie 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 Grazie